Siamo già arrivati alla premiazione del concorso di Controcampo Italiano. Quindi menzione speciale per il miglior contributo tecnico a Francesco Di Giacomo per la fotografia di pugni chiusi di Fiorella in Fascelli. Complimenti. Grazie. Menzione speciale a Black Block di Carlo Augusto Batschmidt. Premio Controcampo Italiano per i cortometraggi a Chiana di Jonas Carpignano. A tutti i ragazzi che ci hanno aiutato a realizzare questo film che è stato veramente difficile e soprattutto i ragazzi che hanno prima fatto la rivolta e un anno dopo che sono tornati e di là aiutarci a fare questo film. Grazie. Premio Controcampo al documentario, il miglior documentario a Pugni chiusi di Fiorella in Fascelli. Pensavo che fosse finita con una cosa così. Complimenti. Grazie per lei. Oggi, ieri, si sono aperte le buste per gli operai del petrolchimico e oggi andavano proprio al Ministero per vedere se forse c'è una speranza che possano comprarle. A loro li finisce la Cassa Integrazione a novembre e quindi speriamo. Speriamo che questo premio gli aiuti. Premio Controcampo Italiano per i lungometraggi. A Sciala di Francesco Bruni. Grazie alla giuria. Ci ho messo più di vent'anni per trovare un assetto psicologico che mi permettesse di sopportare quelle creature insopportabili che sono i registi. E allora eccomi qua, c'è una nemesi. Questo film è stato impreziosito dall'amore di tutte, ogni singola persona che ci ha lavorato, ci ha messo qualche cosa. Infatti è molto più bello di come avrei potuto immaginarlo. Sono molto molto felice, dedico il premio ai miei figli e al mio babbo che c'è ancora ovviamente e che c'è sempre stato soprattutto con me. Grazie. Forza al cinema italiano. Grazie. Grazie. Grazie.